Rapina lampo alla banca Tercas di Martinsicuro. Un colpo che è stato messo a segno in pieno giorno ed in pieno centro. Alle 12.30 due malviventi con il volto coperto da calzamaglia e con in mano due taglierini sono entrati nell'istituto di credito a due passi da Piazza Cavour e dal municipio. E in un minuto e mezzo hanno portato via 10.000 euro, tenendo sotto scacco, sotto la minaccia dei coltellini, non solo i dipendenti ma anche i clienti. Il direttore Fabrizio di Bonaventura è stato colpito al volto da uno dei rapinatori, che lo ritenevano responsabile di ritardare le operazioni. Quindi, con il bottino in mano, sono scappati a bordo di un'auto, quasi certamente rubata. Immediatamente è scattato il piano antirapina, messo in atto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Alba Adriatica, ma dei due si sono perse le tracce. Quasi certamente nel corso della fuga la vettura è stata abbandonata per lasciar spazio ad un'auto pulita. La coppia di malfattori sembra essersi dissolta nel nulla, ma i militari dell'arma stanno valutando anche le riprese delle telecamere poste all'esterno dell'Istituto di Credito di Via Moro. Frammenti che potranno permettere di risalire all'identità dei due rapinatori. Un ennesimo episodio che ha riportato il focus dell'attenzione sulla necessità di garantire maggiore sicurezza nella città truentina. Sebbene, già in estate, il lavoro in raccordo con l'Associazione Nazionale Carabinieri abbia sortito i suoi frutti. Pare comunque che i malviventi abbiano portato via la mazzetta civetta, che esplosa pochi minuti dopo il colpo, potrebbe aver sporcato e reso inutilizzabili anche le altre banconote, mandando di fatto a vuoto il colpo della coppia di malfattori.